Ciao a tutte ragazze Allora, altro look col giubbotto in pelle Allora, ho voluto creare questo look Sempre un pochettino sul rock In generale Quindi è un po' diverso dai miei soliti Che sono, diciamo che Vesto più jeans, t-shirt Una felpa in generale Un po' maione Invece ho deciso di fare un look un pochettino più rock Quest'anno Allora, sempre col mio giubbotto in pelle Come vedete, il trucco è quello del video scorso Quindi ho aggiunto solo un pochettino più di nero Rispetto a quello che avevo fatto E poi ho messo sulle labbra Questo rossetto molto rosso Poi questi orecchini ho messo Sinceramente non mi piacciono tanto con questo look Ma non ho degli orecchini più aggressivi Quindi magari con delle croci O in generale con delle stelline belline Ma purtroppo mi sono messa questi Perché erano gli unici che si abbinavano di più Allora, vediamo questo look Allora, come vi ho detto anche nello scorso video Questo giubbotto è quello in pelle Che avevo preso da Pinky Quindi 29,90 euro Giubbottino in pelle È molto carino Ve lo faccio vedere Eccolo qua E poi, come vedete sotto Adesso vi faccio vedere Ho questo vestitino Allora, questo vestitino L'ho preso oggi da OBS Lo trovate a 9,90 euro Quindi veramente una cavolata C'ha tutte le stelline E lo trovate anche di altre varie combinazioni Ci sono le stelline Per esempio Questo è il vestito tutto bianco Con le stelline nere È molto carino Infatti l'ho deciso Tra quello e questo Poi ci sono altre con delle croci Altre che sono con dei teschi Altre invece sul verde Tutti particolari E mi ricordano molto Quelli che trovo anche a Barcellona Da Stradivarius Del C&M Dei vestitini molto carini Che comunque si possono abbinare Un po' con molte cose E potete sfruttarli come volete E costano una cavolata Quindi 5 Scusate, 9,90 euro Allora, quindi Il mio vestitino è questo Quindi Fatto a maniche corte Molto carino Come vedete Allora, questo è il mio look Allora Davanti è fatto così E sotto Ha sempre I miei pantaloncini in pelle Quindi come lo scorso look Quello con la gonna E scusate Quello con Lo scorso look Appunto con le farfalline E poi Come scarpe Ho sempre le ballerine Però questo look Io ci abbinerei Molto di più Degli stivali neri Che purtroppo Non ho in questo momento qui Quindi non posso farvi rivedere Quindi il look Da questa parte È fatto così Spero si veda abbastanza Detro è molto carino Perché come vedete C'è la schiena Un pochettino più scoperta E a me piacciono tanto Questi look Come vedete A me piace un sacco Questo vestito Non lo so perché Solitamente le stelline Non mi piacciono Ma mi piace proprio Come è fatto Che davanti lo stesso Rimane un bel po' scollato Dietro scollato Ancora di più E mi piace molto Quindi ragazzi Questo era il mio look Un pochettino più rock A cui ci abbinerei Sicuramente Una borsettina Tipo con le borchiette Nera Così Borsettina nera Sicuramente Degli accessori Magari un pochettino Più Più aggressivi Tipo un bel Bracciale con le borchiette Oppure un bracciale Comunque nero Tutto in pelle Degli orecchini Lo stesso Abbastanza grandi Non lo so Con le croci Oppure con i teschietti Molto carino Secondo me Quindi Questo è il mio look Appunto Secondo look rock Spero comunque Che vi piaccia Fatemi sapere un po' Che cosa ne pensate E un bacione ragazzi Alla prossima